ciao a tutti benvenuti o bentornati sull'angolo di saidori per il consueto video delle ore 19 ho una persona in agitazione qua vicino perché innanzitutto ragazzi abbiamo avuto dei problemi di inquadramento di inquadratura perché non ci stai nella camera saluta tutti dai è in super imbarazzo perché praticamente questo se vogliamo sì nei vlog ha partecipato ma non è mai stato così davanti alle luci e in panico pablo proprio non è nel suo però ci voleva la tua collaborazione perché dobbiamo fare il video fondamentale dobbiamo fare il video dello svuota dem e siamo andati insieme al dem abbiamo fatto un po' di acquisti e quindi vi raccontiamo insieme che cosa abbiamo abbiamo preso non abbiamo ancora utilizzato anzi una roba sì e pablo adesso vi dirà che cosa ne pensa un prodotto bocciato ragazzi pablo già bocciato questa cosa anzi vai e prendi lava quello che è bocciato che hai messo in bagno che hai detto che è pessimo ma lo shampoo no che lo shampoo quella lì proprio ragazzi bocciato pablo ha fatto il test ha detto no assolutamente quindi qua diciamo che visto che ci ha fatto il favore di questo video ha fatto a me praticamente ho dovuto firmare ragazze promesse e cambiali ecco questo è il prodotto prendi anche la busta amore il sacchettone va ci lo mettiamo qua così svuotiamo dovuto firmare ragazzi promesse e cambiali perché non voleva solitamente fare il video comunque questo è il sacchettone dai svuota tu allora vediamo tira fuori tipo iniziamo con questi che ci hanno regalato ci hanno regalato un sacco di sacchetti in tessuto ma sei bravissimo con il video davanti e di sto già male due ce ne hanno regalato sì è vero perché eravamo in metropolitana e quindi vabbè poi ho scoperto che c'è andato un sacchetto con roba omaggio amore quello che non ci ha fatto pagare no no ci ha fatto messo un sacchetto con degli omaggi dentro cosa abbiamo cosa è salva slip salva slip è vero salva slip 100% cotone saranno prodotti che vendono loro quindi questo poi cosa ci hanno regalato doccia crema doccia crema vaniglia coppa amore vedi che c'è la luce no sto male amore prova così guarda guarda amore la tecnica della youtuber professionista hai visto quella cos'è no amore aspetta non si vede una mazza beauty and fruiti dovrebbe essere una maschera per pelle mista due maschere anzi sono divise in due artiglio del diavolo amore non si vede però è bravi ma sei bravissimo sei troppo bravo devi aprire anche tu un canale no non sai la notizia io non ce l'ho il mio canale sì ma non pubblichi ma ho tre amici e tre amici ma non sono amici sono follower aleditrucchi.tv ha aperto il canale ma sui trucchi ha deciso di aprire il canale ha iniziato a truccarci no non lo so dai vai allora tira fuori questo cos'è salvaslip salvaslip aspetta che io cerco i prezzi perché ragazzi i prezzi sono la cosa importante del dm amore tu mi stai facendo morire mi fai troppo ridere quanto costano i salvaslip ah eccoli qua 1,59 ma quanti pezzi sono 40 40 stuc si chiamano stuc? gli stuc ok no vabbè io sto troppo ridendo allora ah ho preso poi degli infusi ho preso la amore di cosa è però racconta alle ragazze stai parlando tu io? che cosa abbiamo? camillen che sarebbe? la camomilla la camomilla 20 filtri l'abbiamo pagata e dice riesci eccola qua 1,69 poi ah ecco qua devi intervenire tu vitamina B12 vitamina B12 60 pastiglie ragazze questa è bellissima perché in pratica ci è stata omaggiata da quello che ho capito non è nello scontrino perché hai preso la B12 spiega alle ragazze che fa bene alla pelle al complesso B quindi fa molto bene alla pelle la pelle fa crescere fa crescere vedete che è ottimo è un ricostituente è un ricostituente infatti si dava anche ai bambini tu non la prendevi il betotal piccolino no io sì lo sciroppo che lo odiavo perché era quel dolcioso che a te sicuramente ecco piaceva vai poi Pablito ha preso il gilette perché praticamente il giorno in cui siamo andati noi cosa c'era? amore non per terra magari sul tavolo lanci tutto dopo abbiamo un casino per terra cosa c'era il giorno in cui siamo andati noi? il 20% quindi abbiamo preso pure altre cose costose che sono le lamette per il suo rasoio e le testine per il nostro spazzolino elettrico perché in quel senso costano quegli 8-9 euro col 20% era ottimo era fino al 3 ragazze quindi ormai non più penso che non si può puntare su di te il terzo grado qua il terzo grado vai vai continuiamo altro infuso cosa abbiamo preso in questo caso cos'è? che infuso è amore? eh chi lo può dire? è te è te chi lo può dire dai che si riesce a capire fermiz fermiz ah il terzo grado c'è anche in italiano l'etichetta amore attaccata il fermiz comunque l'infuso del tè il tè la menta sempre 20 bustine 1,69 ah poi questo è tuo quindi devi raccontare tu che cos'è questa roba il deodorante per i piedi e perché c'è sta fissa del deodorante? amore qui mettili ti ho detto sul tavolo stai distruggendo la cucina quanto costava il deodorante per i piedi? come si chiama innanzitutto? si chiama Fus Fus Deo amore ti ho detto sul tavolo salute 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 allora è deodorante per i piedi 1,79 due pezzi perché costano ciascuno 0,99 sì giusto scontati al 20 insomma costano 0,99 poi ci hanno fatto lo sconto speriamo siano buoni perché una di quelle cose è che costa cara nei market no? cos'altro è quello? vitamina B12 ok salviettine queste costano meno che negli altri punti vendita perché costano solo 0,79 amore è sempre sul tavolo ti prego sta spargendo tutto dappertutto poi cos'altro abbiamo ancora salviettine questo cos'è ragazzi ci siamo per over 50 ma perché ci siamo presi il multivitaminico per over 50 ma almeno va bene per te si però sei in serio? amore è sul tavolo non è più possibile comunque 3,69 quante compresse sono? amore devi dare i dettagli che servono 100 tavolette sul tavolo certo tabletten certo 100 tabletten 0 no 3,69 è un prezzo wow no abbiamo preso il over 50 perché perché la composizione alla fine tu l'hai guardata ed era addirittura migliore sono storie di marketing l'over 50 l'hai preso per me vero? sì non è vero per me non va bene infatti io non posso prenderla poi deodoranti prezzo ottimo abbiamo preso questo che a che cosa è amore quello? leggo un po' che senso che cos'è? senza alluminio senza alluminio molto importante senza assai di alluminio ed è il sensitive e l'abbiamo pagato vediamo 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 non lo trovo deospray 0,99 gli abbiamo pagati tutti quanti sì e deodoranti gli abbiamo pagati 0,99 yes poi dolcificante no amore non è dolcificante è l'arinazina sì tipo l'arinazina però ho questa del dam che la voglio provare e c'è scritto che è uno spray nasale contro il raffreddore per la decongestione nasale io ho il setto nasale deviato dalla nascita fratturato e non respiro per niente bene quindi sono un po' schiava di ste robe voglio provare questo qua a vedere se perché costava molto meno l'arinazina mi costa 6 euro questo costava vediamo se lo trovo vediamo se lo trovo allora ne abbiamo preso altri di quelli delle vitamine dalla A alla Z ragazzi non trovo il spray nasale 2,99 ok poi ah i prodotti per le lenti ragazze costano pochissimo questo quale era amore che così diciamo il prezzo che ne so io e leggi un po' c'è anche in italiano no soluzione di conservazione ok quindi il conservante abbiamo preso anche il detergente cerca il detergente che l'ho trovato il detergente costa 4,99 e lo pago di solito 7 8 euro mentre il conservante se lo trovassi ve lo potrei dire 4,99 anche questo veramente quello da 240 ml questo 240 ml che è il la soluzione per conservare mentre questo da 360 dovrebbe essere la soluzione salina questa è la soluzione salina la soluzione salina l'ho pagata ancora meno 2,99 cioè proprio pochissimo i prodotti per le lenti credo di aver preso anche il detergente il detergente il detergente per le lenti non l'ho preso eccolo qua quello è un altro deodorante per ambienti ma che cosa è amore? non è il deodorante per ambienti non per ambienti è per noi 0,99 senza salita alluminio ma chi l'ha preso? io leggi a che gusto è è qualcosa da donna no? è viola è viola ah è viola da donna paradisen blatten paradisen blatten io non voglio blatte amore amore devi leggere dietro che cosa è? ha il profumo di fiori ma come ti sto dicendo? è da donna è il profumo di fiori? va bene anche per te no? come non penso dai amore va benissimo comunque questo costa sempre 4,99 sia il grande che il piccolo costano 4,99 tutte e due ah prego un altro infuso che cos'è amore? leggi leggi prima leggi cos'è? mi fai troppo ridere questa cosa da dimostrare così cos'è questo? per tisana alla frutta tisana alla frutta quanto ce n'è? 200 grammi 200 grammi amore ma non lanciare tutto lì 2,19 tisana mirtillo fragola 2,19 poi da che stiamo per finire? ah questo è per te il tuo profumo questo lo prendiamo sempre prendiamo anche d'estate quando andiamo in vacanza che profumo è? che profumo è? l'argan costa meno di dove lo compriamo di solito l'abbiamo pagato 2,69 se non sbaglio mentre di solito lo paghiamo no 2,95 mentre di solito lo paghiamo 3,90 se non sbaglio più c'era il 20% struccanti ai fiori? ah ecco ho preso un po' di struccanti ragazzi perché vi voglio fare un po' di come si chiama? come si chiama la mia rubrica amore? tu sicuramente lo sai la rubrica quella dove provo gli struccanti l'angolo dello strucco no amore struccaggio? struccaggio t? struccaggio te? non mi strucca io struccaggio test comunque quello l'ho pagato 2,39 leggi un po' le caratteristiche dietro amore facci sapere cosa c'è quanto ce n'è innanzitutto? 100 100 leggi un po' struccante occhi sopra è piccolissimo ai fiori ai fiori di bacch struccante ai fiori di bacch questa è della linea al verde quindi la linea al verde per chi non lo sapesse è quella con inci inci? che inci ha amore? buono inci buono ok vai poi abbiamo preso questo questo l'intimo 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 a che cosa è questo intimo? aspetta che devo trovare l'intimo 1,99 300 ml al extrasensibile con l'aloe vera senza alcol e senza profumo ho scoperto che honey vuol dire senza honey alcol honey parfum meat vuol dire con meat aloe vera intimo senza profumo 300 ml estratto di aloe vera e acido lattico amore cosa abbiamo comprato ancora? un altro dermomed eccolo qua cos'è quello? latte detergente però leggi che latte detergente con olio di argan per quale fascia d'età? beh sarà alta sarebbe io non mi strucco quindi per te e quindi io ho la fascia alta? eh sì amore sei un bastardo allora ragazze vital è con argan oil ed è il latte detergente quello della linea asciura maria e e l'ho pagato 1,99 per 200 ml poi e le barrette che erano buonissime ci siamo pappate subito quante le abbiamo pagate queste barrettine? allora leggi le composizioni che sono sicura che vittoria appena viene a milano se ne vuol prendere un po' vedrai che lei è sempre ovviamente alla ricerca 0,99 ragazzi l'abbiamo pagata la barretta è proprio poco dobbiamo tornare a fare scorta 45 grammi di proteine su 100? no 45 grammi è il prodotto ah ok quanto ha di proteine? 50% voilà non è male eh per 99 centesimi mi sa che ci facciamo la scorta e che zuccheri? eh no proprio io me le mangio tutte poi io me le mangio cioè capite che lui non vuol fare scorta di nulla perchè lui mangia tutto quello che trova a casa l'aspira polvere e quindi non vuole mai comprare roba in abbondanza perchè lui se ne mangia tutto il primo giorno in cui fa la spesa cioè lui fa la spesa e il giorno dopo non ha cibo e noi non possiamo fare delle spese grosse di cose che a lui piacciono verdura frutta carne ok la posso comprare ma tutto il resto lui se lo pappa il giorno dopo ti sembra normale? si come se? hai deciso se questa barretta vale la pena oppure no? guarda che lui ci sono migliaia di follower che aspettano il tuo risponso milioni di persone milioni amore cioè il tuo video col DM farà parola del DM farà il botto perchè voglio dire e cerchiamo di non saltare in aria allora dai allora sto risponso è 23% di carbo 10% di grassi quindi insomma così così dai non è proprio ottima 50% di proteine su 100 grammi però no è buona è buona ce l'hai approvata bene finiamo con un altro deodorante questo qua va bene per te o neanche questo va bene non credo perchè non va bene è rosa è rosa e quindi non puoi usarlo fanno le robe rosa per gli uomini ma che stereotipi hai del rosa vediamo allora deodorante spray fruttato e fiorito per il corpo golden dust ah no su di te lo devi spruzzare su di te buono è da donna si era un po' da donna 099 anche quello senza sali d'alluminio nooo non hai capito che ci siamo presi il test siamo troppo babbi è che l'avevano provato tutti siamo dei babbi ma è vuoto vabbè è andata così sicuramente l'hai preso tu io sì l'ho preso io vabbè ok cos'è quello olio struccante olio struccante quanti ml che cosa c'è dentro grazie 100 ml amore olio struccante 2,39 no questo era dell'alverde no quest'altro è una allora non era quello di prima aspetta alverde struccante 100 ml quello di prima era 2,59 questo questo qua mentre l'olio struccante che è sempre 100 ml 2,39 questo è per pelle delicate con al primo posto glicine soia oil e poi olio di oliva olio europea fruit oil poi elianthus annus hybrid oil insomma tutti olietti e dovrebbe essere anche questo con un buoninci perché è al verde quindi ragazze struccaggio test in arrivo con i due struccanti occhi perché ne avevo finiti gli struccanti occhi proprio struccanti ne ho tanti ma quelli specifici per gli occhi quindi non ce li avevo più quindi li ho ripresi ultimo pezzo che cos'è? la sacchetta è vuota che cos'è questo? vai leggicelo in tedesco io nel frattempo scrub per il corpo ah ecco sei arrivato allora il mir salz il mir salz che cosa c'è dentro tipo che cos'è? al sale marino al sale marino ml 2,50 2,50 costa 3,40 9 ragazze quindi abbiamo preso uno scrapper il corpo ma arriviamo al bocciato non mi abbiamo detto il bocciato ragazzi cioè così ah no ma poi ci siamo dimenticati anche questo guarda questo qua abbiamo preso la vitamina C questo è un nostro mai più senza perché avevo fatto scorta di questo anche già in Germania quando ero stata con Vittoria ed è in polvere praticamente vedete no non lo vedete perché c'è troppa luce eccolo qua vedete è in polvere con dentro un misurino costa stra poco rispetto alle pastiglie di vitamina C che vendono in Italia che costano da morire con questo praticamente noi prendiamo un grammo al giorno post allenamento perché la vitamina C è proprio la vitamina delle vitamine ha un sacchissimo di super proprietà va benissimo per chi si allena ma va benissimo per tutti previene raffreddori malanni stagionali dicono che sia fortemente antitumorale insomma se vi leggete delle cose in merito alla vitamina C vi si apre un mondo no? quindi noi viaggiamo più o meno un grammo al giorno giusto? questa è la nostra vitamina C costa pochissimo costava 1,95 in Germania 2,10 o 2,19 in Italia non me lo ricordo esattamente e poi Pablo ha preso anche questo di Equilibra ciao Equilibra perché Equilibra a volte ci manda dei prodotti ma questo ce lo siamo comprati ed è lievito di birra puro al 100% perché lievito di birra? complesso B quindi anche questo ha il complesso B e fa bene anche all'intestino che io sappia giusto? regolarizza e fa bene alla pelle ovviamente in quanto complesso B e quindi questo tutto il resto l'abbiamo detto no? ah veniamo al bocciato tieni allora parla recensisci questo prodotto niente è asciutto un blocco asciutto che cos'è? le salviette le salviette le salviette umide perché le bocci? è asciutto completamente asciutto uno scottex uno scottex uno scottex quindi caro Dam questa è una vera recensione proprio da un utilizzatore di salviette le migliori rimangono le baby 2000 le baby 2000 che non sono proprio non sono imbattibili quelle lì è una cinesata non è una cinesata le vendono dai cinesi ma sono fatte qua vicino qua in provincia di Milano da un'azienda lombarda assolutamente che ho conosciuto al Cosmoprof e te lo ricordi che mi avevano regalato delle cose che gli avevo detto che tu eri un grande amante di baby 2000 e baby 2000 si è solo distribuito almeno qua a Milano nei negozi dei cinesi ma è assolutamente un made in Italy non mi ricordo se a Nerviano a Giussano o qualcosa del genere con Ano finale scusate non mi ero resa conto vabbè per quello si è amore è molto divertente anni cinque avevamo detto sopra i 50 le vitamine mi è venuto da ridere amore sei sempre tu quello dello humor lui fa delle battute che ride solo lui cioè per una volta che mi scatteno vabbè allora salutiamo le ragazze noi speriamo che questo video vi sia come si dice alla fine la chiusa vi sia piaciuta fai tu la chiusa dai e poi cliccate qui ma amore qua cosa c'è? non so ci sarà qualcosa ecco no amore qui ci sono le schede per iscriversi bravissimo cosa è sta roba? l'aereo scusa? vabbè se questo video vi è piaciuto lasciate facciamolo insieme lasciate il like ci vediamo domani alla stessa ora con un nuovo video no non ci vedete vi vedete no amore non ci sono no amore avevi promesso che facevamo non so se domani ma lui l'aveva promesso che facevamo il video quello delle domande che tu fai a me su di te vabbè io non l'avevo promesso il boyfriend tag mi è stato mi è stato detto e quindi? un unicato che ci dovevo essere e quindi? e prima o poi ci saremmo va bene a che ora pubblico io? alle 7 di che? del mattino? delle ore di sera quindi alle ore? 19 quindi ci vediamo domani alle ore? vi vedete alle ore? 19 va bene ciao 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 ciao